salve a tutti friends al vostro supercorris eccoci qua ragazzi si torna sul nostro epico forza orison 5 abbiamo fatto la carriera donuts adesso voglio vedere di fare altre garete lerce ma è un po cosa possiamo combinare casa di supercorris bello rivederti bro gira a sinistra 300 metri gira a destra non è cazzo fa sta macchina voglio a vedere un po cosa ci aspetta tra 200 metri gira a sinistra gira a sinistra vai a vedere un po le carette queste qua sparse quali sono se gli eventi ufficiali di horizon non ti soddisfano allora è il momento di crearne uno tutto tuo ti presento event lab e non me ne frega un cazzo vai allora questo evento che macchinetta lo possiamo fare col mercedes andiamo a vedere com'è sta gara ragazzi proviamo ad andare un po avanti con gli eventi col nostro arnaldo tavoletta eccolo qui arnaldo potremmo cambiare chiamare anche arnaldo gamba di legno ma la tavoletta mi è sembrato più appropriato vediamo cosa ci comporta sta gare arco di mulè arco di mulè mulè c'è vai minchia che bello oh pure giovannino ci sta il finto però minchia questi stanno a viaggiare cerca di recuperare il nostro arnaldo così compriamo un'altra vetturetta ragazzi ho una bella stessa testa rossa oh sbatte il nostro arnaldo tavoletta ma la marven sa ci distruggevamo sul palo ma donna mia arnaldo che sta combinando qua no no arco zio eh sapevo che no 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 riavvolge ancora è abbassato un po' il volo ma mi sto assordì vai avrei dato wolf con la mercedes ci ha sbarcati in questo gioco con giovannino dietro prende un po' di scena arnaldo detto anche arnaldovic ah battaglia e vabbè insomma arnaldo non gli piacciono queste curve strette manco queste case mi piace niente arnaldo tutto ciò ah vai arnaldo recupera va passa arnaldo primo perché va a tavoletta minchiavante mazzate ci abbiamo sulla mercedes non sarà contento toto dai che l'ho preso su si l'ho preso si l'ho preso e culo va erni venga adesso arnaldo ha capito freno a mano sulle macchine whack pensa un po' tu la pazzia di arnaldovic oh la provano a prendere da dietro ma a lui non gli piace essere preso da dietro nooo no arnaldo no arnaldo bloccali bloccali rischia di perdere tutto arnaldovic e va a vincere no guarda là lo specchietto che cazzo ha fatto mazzate sbaglio sono uscito lo specchietto vince arnaldovic giovannino terzo incredible di nuovo lui ehi bro questo è il tour horizon è il posto giusto per incontrare gli amici rilassarsi e girare per il messico dovresti dargli un'occhiata quando è tempo ehi bro questo è il tour horizon è il posto giusto per incontrare gli amici gira a destra la nostra Anna montagna è bravo il nostro arnaldo bravo arnaldo tra 200 metri gira a sinistra si ma è a me sta dritto qua oh cazzo le case oh cazzo le case arnaldo no paura arnaldo ho visto mai nella mercedes x whack aaaaaaah vuole che macella allora ragazzi mentre andiamo alla destinazione come al solito l'invito è quello di iscrivervi a questo al primo canale supercorris 84 al canale supercorris shorts lascia un like, seguitemi sui miei social sul canale telegram delle offerte dove ragazzi questi giorni sono offerte incredibili c'è il black friday nel fine settimana arriverà di tutto e di più c'è il canale ufficiale supercorris 84 di telegram per le inusinante prime sondaggi con cui vi chiedo ogni giorno cosa vuole vedere sui miei canali c'è il mio black friday quindi trovate tutti i miei video sul livello abbonamento solito platino li trovate sul livello di abbonamento oro quindi a 9 euro invece 24,99 non imparerò a fare gli youtuber proprio come ho imparato io per quanto che ammazzata se vi va oh guarda non c'è lo specchietto oh no no andiamo a vedere cos'è il tour horizon c'è qualcosa di veramente speciale nel prendere un gruppo di piloti professionisti raggrupparli in diverse squadre e farli gareggiare per tutto il messico se vuoi correre il tour horizon è ciò che fa bene ma io non sono un pilota professionista driscolo se vuoi mettere a punto la tua auto hai ancora un po' di tempo prima di iniziare è una di iniziare il tour divertiti collega andiamo andiamo sono anche cazzi macchina c'ho? presumo la mercedes oh cazzo la ferrari guaglio che bello yeah finalmente macchine che mi piacciono presumo saremo anche con altri piloti reali non l'ho capito sta cosa però vediamo vedremo madonna che bella sta macchina voglio che bella dai cazzo abbiamo preso in affitto guarda arnaldo com'è contento di guidare con la ferrari direttamente binotto ci ha chiamati oh oh nonna tutto super caro la più la meno potente è la nostra porco zio vai arnaldo vic fatti vedere fatti valere a voi non c'ho minimamente esperienza qua eh molto bene a 488 pista ci abbiamo eh come si fa via? vai iniziamo non iniziamo non iniziamo però vedo macchinette molto l'erce ma sabbia e a me e vai che bella sta macchina ragazzi arriveremo ultimi probabilmente si ma che minchia fai? probabilmente si ma arnaldo vic oh si ammazzano madonna come sta with arnaldo voglio madonna ma sta with arnaldo vic dai non siamo ultimi forse non arriviamo ultimi madonna che cazzo sta a fare arnaldo voglio bellissima la grafica qua è sontuosa sia della macchina che dell'asfalto bagnato c'è in sei buono c'è in sei buono oh my god madonna ma cazzo parte sta macchina voglio rego per arnaldo vic abbiamo una macchina meno potente ma la stiamo a sfruttare al meglio abbiamo una macchina meno potente ma la stiamo a sfruttare al meglio ma la stiamo a sfruttare al meglio che è lì che cazzo continuo è lì che è lì che è lì ha fatto che è lì che è lì è lì è che è lì che è lì e lì che è lì è lì che cosa no 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 eh grave error dai parti dai cazzo di coglione questa va vabbè ragazzi ci sta Comunque mi sto divertendo a pazzi Ai Peccato che ho fatto un errore Proprio da coglione appatentato Quel che sono Se non tagliavo eravamo quarti ragazzi Non so se vi siete accorti 2 1 E arriva Arnaldo Arnaldovic Ragazzi ha fatto una cazzata epica Tagliando la curva troppo Ma con la strada sbagliata Nucasina guida sta macchina Peccato peccato Dai sono contento Siamo qualificati? Sì vittoria Io non ho capito come funziona sta serie di competizioni Però mi sono divertito veramente tanto Presumo che questi siano reali Boh Non lo so Ero quarto io Pensa un po' tu Dai dammi una bella macchina Su rompolo cazzo Grande Arnaldovic Ehi Ora sappiamo dov'è la linea di partenza della prossima gara Ma non avere fretta Prenditi un po' di tempo per ammirare il paesale Ma fatta l'affanculo Questa gente vera Secondo me Tra 200 metri Gira a destra Gira a destra Ma che bella sta macchina Voglio quanta cazza è bella Io la voglio veramente Ma è goduriosissima da guidare Eccoti a distinzione Cazzo di macchina bella voglio Presumo che siamo tutti reali Qua a sto punto Quello che sto vedendo Bella raga Giochiamo con gente online Non l'avevo mai fatto Su Forza Horizon Molto molto bene Che bella raga sta macchina Al nostro Arnaldo Tavoletta Detto Arnaudovic Arnaudovic Anzi scusa Arnaudovic È buona Sprinti di riviera E lui se ne intende Arnaldo di riviera Perché va sempre A incentivare la prostituzione In riviera Ho capito No ho capito Con chi stiamo sfidandoci Boh Va bene Ci possiamo fare Si parte a Francia Oh cazzo Oh cazzo Niente io non vedo un Kaiser Ma voi Questi della squadra mia C'hanno le macchine Che 7000 cavalli Che cazzo Li facciamo No Sbagli Arnaldovic Ah ti affanculo Credi Sta squadra Che a me è stupirla Nel cazzo Vuoi Cazzo De puglione Sto di coglione Ha patentato Quella squadra nostra E cazzo De puglione Che si va Insomma Gli anticappati Però sto gioco Stanno Va bene A favaglio Anticappati Che per stanno In squadra con noi Pensa un po' Tu che cazzo Di gente Che cazzo Può capir Va bene Va bene Tentiamo la rimonta Epica Mi frega Perché quando si Si incapretta Non la ripigli più Dai Arnaldo Almeno non arriviamo ultimi Però devo dire Che è proprio Un'attività divertente Ah non siamo ultimi Bene C'è il peggio di noi Arriva Arnaldo Oh my god Che cazzo Di mazzata Ah non è cazzo Di mazzata Arnaldo Queste Quando le sei botte Del computer Vanno troppo A cazzo Troppo poco Aggressivi I am a Jay Vanno qua lì Zedà I am a Jay Vanno qua lì No non ce la facciamo A fine questa Eh forse ce la facciamo Per il rotto Della cuffia Arriva Arnaldovich Ma tanto che cazzo Abbiamo fatta Alla Ferrari Oh no Dove fa Stanno rincoglioniti Mi sono qualificato Mi ha vinto un'altra volta Vai Questo ne vince Tutte quante Grazie C'è la macchina Vada 50 Vila Allora di più Dai dai Mi prendi A me A me Mi servono i soldi Questa piace Raga Divertente Un'attività Molto divertente Il nostro Arnaldovich Lo vedo proprio In forma Lo vedo Ernie Oh Cazzo Sta a combinar Arnaldo E qua Arnaldovich Mambo Ma lui ha Oh cazzo Ha quest'anima Da rally Arnaldovich Ora Ferrari Ah non arriva Manca il prossimo evento Sti cazzi Alla rotonda Prendere la prima uscita Ce la fa un'altra volta Arnaldovich Eccoti a destinazione Ci abbiamo fatta Proprio all'ultimo secondo Siamo arrivati Oggi Tutto all'ultimo secondo Stiamo a fare Forse no Sì Ci abbiamo fatta Ultima gara Di questo epico evento Con il nostro Arnaldovich Carlos Giardines Non c'ho Manca la macchina Queste c'hanno Le macchine mostruose Di proprietà Preparate pure Non c'ho Manca la macchina Ho dovuto affittare Infatti siamo Quelli che c'hanno La macchina più scarsa Ma è passata Fatta una fangola Che cazzo Sbattete Queste paghiette A trompere i coglioni A trompere i coglioni Io stiamo a mezzo Lo cazzo sta Dai Arnaldovich Dai resto Affongarone Arnaldovich epico Ottimo giro Per Arnaldovich No 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 Arnaldovich di merda, vai, c'è un'esquadra con sta gente al, sto un va, metto a vedere i video su YouTube, metto a vedere qui sto magnone di merda sto magnone di merda che attengono, sono un walk-up aperto si, stronzo no, vaffanculo, sti giocatori di merda, sta gente sta raffianco sto scemo vabbè, che vinciamo, raga oh, 100.000 molto bene, adesso andiamo a comprare pure una macchinetta con 100.000 però è finita la puntata chissà se conviene o non la compriamo nella prossima puntata compriamo una macchina nuova ma quanti soldi c'ho io praticamente ho dei progetti per qualche nuova avventura e tu hai delle decisioni da prendere ah, vedi bello, bello quanti soldi ci abbiamo ragazzi 323.000 andiamo a vedere le auto nuove voglio vedere se possiamo spendere qualche soldino eh, alfa, raga la prossima sarà una bella alfa prenderemo eh, pure le Ferrari sono belle ma ci sta l'alfa ah, cazzo, alfa sta di quello ah BMW eh no Audi e ci sta l'alfa ma porco zio beh ragazzi ci penserò a comprare una macchina vi do appuntamento ai prossimi video al vostro supercorso ciao aglio oh 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 oh